Salve a tutti raga e bentornati sul mio canale, sono GreenNaty7 e siamo qui con un ennesimo musical video Prima di iniziare mi raccomando lasciate like e detto questo cominciamo subito Quest'oggi sono qui a presentarvi due nuovi Team Whistles Uno in Do maggiore e l'altro invece in Sol, più piccolo Cominciamo con il primo, questo come potete ben vedere è in Do Ora ve lo faccio sentire Grazie a tutti E ora passiamo al secondo in Sol Un poco più piccolo di quello che fa che tengo già Però comunque ve lo faccio sentire Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Guarda qua, le dita sono tutte strette, sono tutte unite Eh ragazzi, guardate qua Bene raga, questo video può concludersi qua E se vi è piaciuto mettete un like oppure condividete su Facebook E ragazzi, continuate a suggerirmi qui sotto gli strumenti o i Team Whistles in quali tonalità suonarli E io ci farò i video Insomma, se vi piacciono i miei video lasciate like e condividete su Facebook Ehm, attivate la campanellina delle notifiche se volete ricevere altre notifiche sui miei video E iscrivetevi se ancora non siete iscritti Seguitemi su Instagram Ehm, o su Facebook Ehm, e niente Io vi saluto, vi abbraccio e Bye bye gente